ciao oggi prepariamo una crema buonissima la crema pasticcera vediamo gli ingredienti si inizia separando le chiare dai tuorli intanto scaldate il latte con le pulce di limone e metà dello zucchero con il resto dello zucchero montate i tuorli incorporando anche la farina quando il latte bolle incorporate una piccola quantità nelle uova quindi lo versate tutto nel composto rimettetelo nella pentola e fate addensare la crema sul fuoco quando la crema è densa versatelo in un recipiente e copritela a contatto con una pellicola la fate freddare in una recipiente di acqua fredda la crema pasticcera è pronta un saluto da elle